Questa partita con il Foggia, Casertana ha chiamato a confermare quanto di buono ha fatto da 5-6 domeniche a questa parte. Veramente questa partita per me è la partita normale, anche se quando stavo a Foggia sono stato bene, i tifosi mi vogliono bene, tutta la città mi vuole bene. Ma il lavoro è il lavoro, adesso che sono a Cassetta, gioco per Cassertana, dal mio meglio, per me è normale, è una partita normale, mi dispiace per loro, ma devo dare tutto, qua mangio e qua devo lavorare, tutto qua. Come procede questa marcia di avvicinamento a questa partita? Lo so che è una partita difficile, stiamo lavorando, giochiamo e speriamo che la fortuna sia da nostra parte. Domenica hai mancato l'appuntamento con il gol, dopo due turni consecutive sempre a bersaglio, magari stavolta potrebbe scapparci il gol, il gol dell'ex, no? Magari faccio gol di ex, ma avevo detto mi dispiace per loro, se trovo davanti alla porta faccio gol, ma non insulto perché sono stato bene con loro, mi hanno preso come la famiglia. Io ci vado là ancora per trovare amici e Foggia è come a casa mia.